Di nuovo buona serata, buon viaggio dalla redazione di Firenze Smart Mauro Ciutini. In A1 tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico, un veicolo in avaria in direzione di Bologna. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci, traffico rallentato per traffico intenso in direzione di Firenze. Tornando in A1, code a tratti tra Chiusi e Firenze Sud, la direzione è quella per Firenze. In chiusura per i treni, il 19265 Parma, la Spezia oggi è limitato a Borgotaro e il 19272 la Spezia Parma è stato cancellato per l'intera tratta. Muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie a tutti.